Autostrada, raffica di incidenti in sequenza ma senza feriti gradi, caos e disagi per la viabilità, code interminabili. Un 58enne finito nei guai dopo aver provocato un sinistro stradale, si era messo al volante con un tasso alcolico di quattro volte superiore a quanto stabilito dalla legge. Corpo privo di vita recuperato questa mattina in centro storico a Chioggia, accertamenti in corso sulla dinamica della tragedia, indagano i carabinieri. 14 dipendenti regionali del Friuli Venezia Giulia indagati, accusati di truffa, che andava in osteria e che a fare shopping. Deposito di fanghe e drenaggio scoperto dalla guardia costiera di Caorle a ridotto della laguna di morte, l'area è finita sotto sequestro. Ebbene erano queste le principali notizie della nuova edizione del telegiornale del Nord-Est, grazie ancora una volta gentili telespettatori per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete sentito operazioni importanti, quelle condotte dalla polizia locale, dai carabinieri in tutto il Nord-Est, i furbetti del cartellino che tornano alla ribalta, ai noi in Friuli Venezia Giulia, una terra fino a questo momento, diciamo, fra virgolette sana da questo punto di vista. Parleremo anche di macabre scoperte, ma anche spazio alla politica con tanti ospiti e candidati al Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia in vista delle elezioni del 29 aprile, quindi appunto a fine mese, ma anche, vi ricordo l'appuntamento di questa sera a partire dalle 21, tornerà a Gorà dagli studi di Udine. Sergio Bolzonello, candidato alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia, supportato da alcuni candidati al Consiglio regionale per quanto riguarda le liste del centro-sinistra, a conturre Omar Costantini. Sarà un dibattito veramente molto interessante, quindi sintonizzatevi con noi a partire dalle 21, che ne vedrete, e appunto per assisterne anche delle belle. La domanda che vi proponiamo, che vi abbiamo proposto nella edizione precedente, Stati Uniti, Inghilterra e Francia bombardano la Siria, Trump, Assad è un assassino, sei d'accordo? Per il 66% di voi Trump ha ragione, quindi Assad è un assassino, il restante 34% invece, diciamo così, solleva Assad da qualsiasi tipo di responsabilità. La domanda che invece vi poniamo in questa edizione è piuttosto bizzarra, simpatica. Vediamo allora Maurizio Nella Grattica, l'ex ministro Chienge, vittima di razzismo. Mi odiano perché sono donna e soprattutto perché sono di colore. Siete d'accordo? Il fa... beh, ve la ricordate tutti, insomma, il ministro che ha fatto discutere, un ministro insomma che ha cercato in alcuni periodi anche di arrampicarsi sugli specchi, giustamente poi per determinate cose è stata ampiamente e duramente contestata. Beh, l'ultima arriva direttamente da casa sua. Escrementi nel giardino di casa sua, un giornale poi nazionale titolo a Chienge raccoglie la... io uso un eufenimismo e dico pupù che semina, il suo cane la fa in strada, i vicini gliela recapitano, lei grida al razzismo. E giustamente lei, intervistata poi dalla giornalista di questo quotidiano, dice ce l'hanno con me, mi odiano perché sono donna e di colore. Cosa ne pensate? Insomma, queste ripicche dimostrano questo fatto, cioè l'odio deriva da situazioni di colore, quindi razzismo e perché è donna, oppure c'è qualcosa di diverso. Ve la ricordate la Chienge? Quindi vorrei anche sapere da parte vostra qual è il vostro sentore. SMS 393 93 24 336, email telepordenone.it, ci potete vedere come sempre anche in streaming nel sito www.telepordenone.tv. Vi ricordo un sito anche carico ricco di notizie aggiornate 24 ore su 24. Apriamo il telegiornale, è stata una giornata di passione e anche di grossi disagi in autostrada A4, serie di incidenti e code interminabili. Primo servizio dalla redazione friulana. Giornata di passione in A4. È stato riaperto dopo circa un'ora in A34 lo svincolo in entrata a Villesse in direzione Bivio A4-A23, chiuso in seguito a un tamponamento fra due mezzi pesanti accaduto fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia verso le 13.30. I due mezzi pesanti coinvolti che occupavano la corsia di marcia sono stati rimossi e il traffico ha ripreso a scorrere anche su questa corsia, oltre che su quella di sorpasso utilizzata durante le operazioni di rimozione. Nel corso del pomeriggio si sono registrati rallentamenti a singhiozzo nel tratto interessato dal sinistro, mentre sul resto dell'autostrada la circolazione è tornata alla normalità. Mattinata difficile anche sul fronte Veneto dell'autostrada A4 per uno schianto tra mezzi pesanti, coda di quasi 10 chilometri tra il veneziano e il padovano. Ci racconta questa giornata da dimenticare da Bolino Nero dalla redazione del Veneto all'essio Conforti. Un incidente tra mezzi pesanti si è verificato questa mattina in A4 tra Rino e Dolo in direzione Milano. Siamo a cavallo tra la città metropolitana di Venezia e la provincia di Padova. Il tamponamento ha coinvolto quattro veicoli senza causare fortunatamente feriti gravi. Ad avere la peggio è stata invece la viabilità con la formazione di lunghe code. A metà mattinata i chilometri erano all'incirca sette con disagi per gli automobilisti diretti verso il capoluogo Meneghino. I tir avrebbero ostruito anche la corsia di sorpasso e quella intermedia formando un imbuto sul quale si sono incolonnati tutti i mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi di legge oltre agli ausiliari di CAV, la società che gestisce il tratto autostradale in questione. La situazione è andata via via migliorando nel corso della mattinata salvo poi aver risolto il problema nel primissimo pomeriggio. Sicurezza stradale nella destra tagliamento nella fu provincia di Pordenone. Vertice questa mattina in prefettura. Mappati i punti più pericolosi. Il servizio. Nella mattinata odierna si è tenuto presso la sede della prefettura un incontro sull'attualissimo tema della sicurezza stradale che costituisce peraltro uno degli obiettivi strategici del Ministero dell'Interno. Partendo dai dati e dalle analisi forniti proprio dal Ministero è stato effettuato con i vertici della Polizia stradale di Pordenone, della Friuli-Venezia-Giulia strade S.P.A. e un rappresentante della regione, un approfondimento sul fenomeno dell'incidentalità stradale in questo ambito provinciale, con particolare riferimento a quella parte di esso riconducibile all'eccesso di velocità. Dall'analisi è emerso che anche in questa provincia, in linea con il trend rilevato su scala nazionale, dopo anni di continua decrescita degli incidenti stradali più gravi, si sta registrando in questi ultimi anni un'inversione di tendenza, con un aumento del numero di sinistri, causati da condotte di guida illecite e imprudenti, dagli esiti mortali. Con l'occasione sono stati individuati e condivisi gli interventi da attuarsi, nell'immediato e nel medio-lungo periodo, per arginare tale allarmante fenomeno suscitate arterie. A riguardo, subito dopo la stagione estiva, il gruppo di lavoro si riunirà nuovamente per fare un punto della situazione e verificare lo stato di attuazione degli interventi programmati. È stata inoltre condivisa la necessità di un impegno forte da parte di tutte le istituzioni ed enti interessati, volto a consolidare attraverso attività di informazione e di sensibilizzazione, da una parte una cultura della sicurezza stradale, finalizzata ad orientare in modo corretto il comportamento degli utenti della strada, dall'altra a potenziare, con il supporto delle nuove tecnologie, le strategie ed i modelli operativi che disciplinano l'attività di prevenzione e contrasto delle forze di polizia. Non si ferma all'alt dei carabinieri dandosi alla fuga. A Sacile un 38enne viene denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in via Trento, località Cornadella. Nei guai è finito un uomo residente a Breda di Piave, nel Trebigiano, che a bordo della sua Ford Fist ha cercato di eludere i controlli dei militari dell'arma, avendo poi fermato. Al termine dei controlli, il 38enne è risultato privo di patente e di guida perché era evocata in possesso di una dose di cocaina. Dagli esami effettuati grazie all'alcol test e gli accertamenti eseguiti in ospedale a Pordenone, è emerso che l'uomo si era messo al volante in stato di ebrezza alcoliche, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. In auto con lui c'erano altri due giovani, tra cui un 23enne, che gli è trovato in possesso di una dose di cocaina. Entrambi sono quindi stati segnalati alla prefettura. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Intanto a Pordenone, un 58enne rumeno è finito nei guai dopo aver provocato un incidente stradale in zona fiera, si era messo al volante della propria automobile con un tasso alcolico di quattro volte superiore a quanto stabilito dalla normativa di legge. Veicolo sequestrato ai fini di confisca, patente rumena ritirata e una denuncia per il reato di guida in stato di ebrezza. A Pordenone, un 50enne di nazionalità rumena è finito nei guai a seguito dell'incidente avvenuto giovedì scorso in Viale Treviso, fronte fiera. L'uomo al volante della sua auto aveva infatti tamponato una Honda Jazz che dall'urto è stata spinta contro un Audi A4. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma la polizia locale, già durante il colloquio intercorso con il conducente, si era accorta che qualcosa in lui non andava. Il rumeno manifestava infatti i classici comportamenti attestanti, una probabile alterazione dovuta all'assunzione di alcol. Sottoposto al test, è emerso il verdetto alla prima prova 2.11 grammi per litro di sangue e alla seconda 2.2, quindi quattro volte, il limite consentito dalla legge. Inevitabili per lui le sanzioni. Ci sentiamo. Si è verificato un incidente stradale con uscita autonoma di un'autovettura. Dovremmo avere anche la foto che gentilmente Matteo Bellomo ci ha fornito. Stavo dicendo appunto un'uscita autonoma di un'autovettura nei pressi della rotatoria per Montereale-Valcellina sulla NSA 30. In comune di Maniago siamo in Viale Cristoforo Colombo alle 11.04 di questa mattina. Un ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Pordenone per ulteriori accertamenti avendo subito traumi piuttosto importanti al tronco e alla spalla. Sul posto i vigili fuoco di Maniago, forza dell'ordine e ambulanza inviata direttamente dalla centrale unica di Palmanova. E' tornato a trovarci un esperto, sicuramente un amico nostro e anche un medico di grosso calibro, Massimo Crapis, il nostro infettivologo di fiducia. Grazie innanzitutto dottore. Allora parliamo in un periodo in cui le influenze ormai ci stanno rendendo ancora più difficile la vita. Insomma si spera nell'arrivo dell'estate e anche e soprattutto di un clima più umite per scacciare virus e soprattutto batteri di antibiotico resistenza e prescrizione antibiotica nel 2017. Mi sembra che ci siano i dati 2017 forniti dall'azienda sanitaria 5 e il friulo occidentale. Cosa dicono questi dati? Intanzitutto buonasera direttore, grazie per il bentornato. È un piacere per me, effettivamente da poco la settimana scorsa a San Vito e due settimane fa a Pordenone ci siamo incontrati con tutti i medici ospedalieri e la settimana scorsa in realtà poi abbiamo cominciato gli incontri anche con i medici in medicina generale per vedere cosa è successo nel 2017 da un punto di vista di resistenze antibiotiche e da parte dei batteri e parallelamente di consumo di antibiotici. La situazione è discreta nel senso che esistono nella nostra realtà comunque dei batteri resistenti in particolare lo stafilococco medicino resistente che consideriamo che a livello nazionale si attesta tra il 25 e il 30%, noi quest'anno siamo sul 20% con un trend in miglioramento rispetto agli anni precedenti. La buonissima notizia è per l'altra classe di batteri, i gram negativi, che sono la principale resistenza è la cosiddetta ESBL, cioè la produzione di beta-latamasi a spettro esteso, cioè un enzima che li rende resistenti agli antibiotici di prima e a volte anche di seconda linea e da quel punto di vista là, mentre l'Italia si attesta a tassi assolutamente al di sopra del 20-25%, la nostra provincia è per il secondo anno consecutivo che sta sul 12-12,5% che quindi è una realtà positiva. A questo si associa in effetti anche un calo delle prescrizioni di terapie antibiotiche, parliamo prevalentemente dal punto di vista intraospedaliero, però si sta muovendo qualcosa di positivo anche a livello territoriale, cioè a livello della prescrizione extraospedaliera, in cui si stanno cominciando a ridurre effettivamente i consumi degli antibiotici che maggiormente selezionano batteri resistenti, quelli di cui dicevo prima, in particolare gli ESBL, che sono due categorie di antibiotici in particolare, che è bene che anche la popolazione sappia, anche perché i nomi li avranno sicuramente sentiti nominare, che sono la classe dei fluorochinoloni, a cui appartengono ciprofloxacina e levofloxacina in particolare, e le cefalosporine di terza generazione, a cui appartiene il ceftriaxone per quanto riguarda la somministrazione che di solito si fa in veno e in muscolo, ma anche tante altre cefalosporine orali che vengono utilizzate comunemente, sia in pediatria sia in medicina generale. Si utilizzano, dottore, per debellare quali tipi di infezioni? Normalmente, come per tutti gli antibiotici, per infezioni batteriche, e qui è un po' la dolente nota, nel senso che noi stiamo lavorando e ci stanno seguendo molto bene tutti i medici, sia gli introspedalieri che i territoriali, sul fatto che spesso viene messa, invece, come diceva prima, citava l'influenza, viene messa per infezioni virali, perché potrebbero complicarsi con infezioni batteriche, che non è un atteggiamento corretto, e allora effettivamente si va ad agire su questi elementi. e tutto sommato i dati di consumo ci confortano in tal senso. Le volevo chiedere invece, la moxillina, che è un farmaco che ormai danno appunto, sono anch'io sotto cura, per quello le faccio anche la domanda, ma come me chissà anche quante altre persone. Ho sentito che proprio i batteri stanno sviluppando una forma di resistenza nei confronti di questo farmaco. Parzialmente vero, nel senso che è un farmaco molto vecchio, chiamiamolo così antico, nel senso che è stato messo in commercio addirittura negli anni 90, quindi ormai teoricamente è da tanto tempo, ma nonostante quello sta tenendo, tra virgolette, abbastanza sulla sensibilità, ovviamente perché noi consideriamo che da tanto tempo ci saremmo aspettati tassi di resistenza più alta. In realtà effettivamente nella nostra provincia siamo circa al 20% di resistenza dei batteri ad amoxicina clavulanato, che è un dato che ci consente di continuare a utilizzarlo come prima linea perché comunque seleziona meno resistenza degli altri che ho citato. Però è un dato che vuol dire che nel 20% dei casi non funziona, quindi è un farmaco anche quello che dobbiamo saper gestire per potergli garantire una sopravvivenza, diciamo così un mantenimento della sensibilità per molto più tempo. Le faccio un'ultima domanda, che futuro vede per i farmaci che sono attualmente in commercio? Rischiamo appunto questo facendo un abuso di sviluppare sempre più resistenza appunto da parte di virus, di batteri e quant'altro? O dobbiamo tirare un po' i remi in barca e tornare ai rimedi della nonna? Allora diciamo che lo spauracchio e la tendenza, diciamo, se non si pone un freno è quella effettivamente di perdere l'efficacia di farmaci che fino a pochi anni fa ci davano grandi soddisfazioni e adesso cominciano a vacillare. Non siamo ancora nell'epoca post-antibiotica, come qualcuno dice, ma per non finirlo dobbiamo cominciare a lavorare ed è appunto dall'anno scorso, un anno, un anno e mezzo, che stiamo lavorando in maniera molto capillare anche, ripeto, con i medici in medicina generale e comunque anche con i cittadini. La settimana scorsa, venerdì scorso, ho incontrato i cittadini grazie all'associazione in buona salute e la società operaia di mutuo soccorso per una conferenza aperta al pubblico proprio sul tema degli antibiotici e dell'antibiotico resistenza, perché tutti dobbiamo essere coinvolti nell'uso sapiente degli antibiotici perché siamo ancora in tempo per limitare, diciamo, l'insorgenza e resistenza, ma siamo proprio sul limitare, quindi se non ci poniamo un freno entro qualche anno perderemo queste grandi armi. Per cui, diciamo, armiamoci e cerchiamo di usarli sapientemente e soprattutto non utilizzarli quando effettivamente possiamo non utilizzarli, quindi nelle situazioni in cui sono chiaramente delle infezioni virali o comunque all'inizio di qualche sindrome febbrile, se non ci sono gravi sintomi, uno o due giorni si può provare ad attendere prima di prendere una terapia antibiotica e poi dopo si consulta un medico e solo su sua indicazione si va a prendere una terapia antibiotica. Dottore, un nostro telespettatore ci chiede come mai questa influenza o pseudo influenza si sta così appunto procrastinando nei tempi, come mai ci sono ancora così tante persone influenzate? Il tempo, il clima in quanto tale non ci aiuta e in realtà non è un'unica influenza, nel senso che come avevo detto anche l'altra volta, grazie al test che la nostra microbiologia ci mette a disposizione in cui andiamo a cercare tanti virus respiratori nelle secrezioni dei pazienti ricoverati, vediamo che c'è una circolazione non solo del virus influenzale, che comunque quest'anno è stata molto più alta dell'atteso, ma anche di tanti altri virus respiratori, coronavirus, rinovirus, metapneumovirus, che effettivamente purtroppo tra loro danno un effetto diciamo sinergico, nel senso che se uno si è appena infettato con una di queste infezioni è molto più facile che se infetti con un'altra, se vieni in contatto con un altro virus e quindi questo rende ragione del fatto che ci siano tanti pazienti che riferiscono subentranti virosi, per cui ci sono stati tanti virus, perché hanno circolato di più? Effettivamente quest'anno è stato un po' più freddo e si sta anche abbastanza prolungando, adesso ha cominciato i primi caldi, però si è prolungato fino ad adesso e questo probabilmente ha reso ragione della maggior circolazione di virus. Ci vediamo nei prossimi giorni, grazie come sempre a Massimo Crapis, il nostro infettivologo di riferimento, in auto aveva un centinaio di capi di abbigliamento di cui non sapeva indicare l'esatta provenienza senza contare che si era messo al volante con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge. Brugnera in via Mazzini, i carabinieri dell'alicota radiomobile di Sacile hanno denunciato un 45enne originario del Marocco per guida in stato di ebrezza, commercio di prodotti contraffatti e ricettazione. Parliamo di auto senza revisione, ancora casi da segnalare e segnalati a Pordenone. Auto senza revisione, ancora nuovi casi a Pordenone. Nell'ambito dei predisposti controlli finalizzati a garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, la polizia locale della città situata sulle rive del Noncello ha svolto nel recente fine settimana mirati i servizi in alcune vie cittadine particolarmente trafficate, in particolar modo la strada statale 13, viale Aquileia, ma anche viale Venezia e via Montereale. In poche ore, solo sabato mattina, sono state ben sette le auto trovate senza revisione, due sono stati i sequestri per mancata copertura assicurativa e due sono stati i motociclisti sanzionati per sorpasso irregolare, linea continua o dosso. I conducenti sono tutti italiani residenti in provincia, così come i due motociclisti di 40 anni. Nel complesso i verbali per mancata revisione sono stati nove, oltre a due per la velocità e due per sosta in stalli riservati alle persone diversamente abili, in particolar modo in via Cavalleria e via dello Zoccolo. Corpo privo di vita recuperato questa mattina in centro storico a Chioggia, certamente in corso sulla dinamica della tragedia, indagano i carabinieri. Il cadavere di un uomo è stato recuperato questa mattina a Chioggia in Canal Vena, siamo in pieno centro. L'allarme è stato dato immediatamente al 112, al 115, attorno alle 6.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero della Salma e i carabinieri che hanno eseguito i rilevi di legge. Si tratta di un uomo di 50 anni, Enrico Sarto, finito per cause di accertamento nelle acque. Tra le ipotesi vi è anche quella dell'incidente, visto che la vittima pare avesse perso il controllo della propria bicicletta elettrica, finendo poi in canale. A quel punto non sarebbe più riuscito a mettersi in salvo. Della tragedia è stato informato il magistrato di turno a cui spettano eventuali decisioni relative ad ulteriori accertamenti per far luce sulla dinamica dell'accaduto. Andiamo con un altro ospite, lui è Alberto Gottardo, si candida a guidare la città di Sacile per il centro-destra, quasi che si presenta in maniera compatta. Allora Gottardo, attenzione soprattutto alle frazioni, non soltanto al centro storico. Quali le strategie da adottare? Assolutamente noi pensiamo che le frazioni siano il vero cuore pulsante della comunità sacilesi. Per questo riteniamo doveroso, abbiamo preso degli impegni chiari messi nero su bianco nel nostro programma, di dare alle frazioni dei servizi di cui oggi purtroppo non possono usufruire. In primis vogliamo attivare una linea di bus urbano che possa collegare le frazioni al centro storico, quindi rispondendo all'esigenza magari delle famiglie con figli, ma in particolare della popolazione più anziana. Abbiamo pensato a dei servizi decentrati, delocalizzati nelle frazioni, lì dove la gente ne ha più bisogno, quindi intendiamo utilizzare dei locali di proprietà comunali o stipulare delle convenzioni, lì dove non ci sono edifici comunali, per permettere al personale del comune di dare alcuni servizi banali, ad esempio come anche quelli relativi all'anagrafe, ma lì dove appunto i cittadini ne hanno più bisogno nelle frazioni. Abbiamo pensato sempre in tema di mobilità, tutta una serie di interventi che vadano a raccordare percorsi ciclopedonali esistenti per permettere alla popolazione di raggiungere il centro e i servizi fondamentali come l'ospedale in maniera più gevole e in sicurezza. C'è una necessità anche di dare servizi come possono essere anche in alcune frazioni il bar di frazione che non c'è più, quindi l'amministrazione comunale ha pensato anche a questo attraverso delle misure contributive che vadano a favorire la riapertura di attività come quella che ho citato. Rendere le frazioni vive risponde anche a un'esigenza di sicurezza, cioè una frazione più sicura. Sempre in tema di sicurezza abbiamo pensato di istituire il vigile di quartiere, quindi una figura che non sia solo garante del controllo del territorio nelle frazioni, ma che sia anche una presenza di fatto dell'amministrazione comunale per raccogliere segnalazioni, raccogliere esigenze che poi possa permettere all'amministrazione comunale di attuare delle politiche che vadano proprio a rispondere all'esigenza di sicurezza della nostra popolazione. Servizi sicuramente importanti, ma leggendo e spulciando il suo programma elettorale ho percepito anche un'attenzione verso la cosiddetta appartenenti della terza età, cioè gli anziani. Cosa prevede il suo programma? Assolutamente, noi intendiamo proseguire ovviamente quanto di buono fatto dall'assessorato alle politiche sociali. In questi anni c'è il tema della casa di riposo che necessita ovviamente di un ampliamento, è risaputo della coda, della lista d'attesa purtroppo lunghissima che c'è, quindi qui intendiamo chiedere alla Regione che rispetti gli impegni a parole presi e che intervenga in maniera mirata su questo. Ma c'è anche un tema legato a un'esigenza della popolazione anziana che non ha ancora un'esigenza magari di assistenza, ma un'esigenza principalmente di socializzazione. Noi abbiamo pensato nell'ex distretto militare di Via 25 Aprile di agevolare l'iniziativa privata per realizzare un coausi, significa dare una residenza protetta con dei servizi di tipo alberghiero per rispondere principalmente a un'esigenza di socializzazione che è una fascia di popolazione anziana ancora autosufficiente, che non ha bisogno di assistenza continuativa, però ha e quindi dargli questo contesto, questo contenitore culturale, quindi attraverso anche un recupero di un immobile importante per la città, quello dell'ex distretto militare, dare un servizio a una popolazione anziana di questo tipo. Quel contenitore sarà anche attraverso questa operazione un nuovo contenitore culturale, quindi una nuova prospettiva per la città in questo senso. Io ringrazio il candidato sindaco per la città di Sacile, Alberto Gottardo, con lui vi ricordo ci vedremo nuovamente in questi studi nei prossimi giorni. Proseguiamo il telegiornale, indagati gli otto dipendenti regionali dal cartellino Facile. Il tutto in Friuli, Venezia e Giulia. 14 avvisi di conclusione e indagini sono stati notificati ad altrettanto furbetti del cartellino, dipendenti della regione Friuli, Venezia e Giulia, indagati dalla procura di Gorizia per l'ipotesi di reato di truffa. Dopo aver regolarmente timbrato il documento che attestava la presenza al lavoro, gli impiegati pubblici si davano alle occupazioni più disparate. C'era chi andava con l'auto di servizio nella vicina Slovenia a giocare al casino, chi trascorreva l'intera giornata gli stand della manifestazione culinaria Gusti di Frontiera, chi faceva shopping. L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Gorizia, coordinati dal tenente colonnello Pasquale Starace. I dipendenti sono stati pedinati per mesi e spiati dalle telecamere. E' appena arrivato ai nostri studi Alberto Marchiori, presidente regionale di Ascom Conf Commercio, ben ritrovato architetto innanzitutto. Entriamo non proprio dentro la scena politica perché come associazione voi dovete essere super partes, però non ci possiamo regare che avete avuto degli incontri anche con i vari rappresentanti ma soprattutto con i candidati alla presidenza della regione di Venezia Giulia. Cosa avete espresso? Quale desiderio avete espresso ai candidati di una piuttosto che l'altra coalizione o partito per il commercio? Beh, ovviamente eravamo presenti come categorie della ex provincia di Pordenone. Io ho presentato ai candidati, finora ne abbiamo incontrati tre. Il quarto Sergio Bozzonello lo incontreremo venerdì sera, abbiamo presentato un programma che si intitola Ricominciamo da, perché mi ricorda un po' Massimo Troisi nel senso che se vi ricordate la battuta lui diceva ricominciamo da tre, cioè non partiamo da zero. Io, e non è che voglia tenere parte a favore di nessuno ma come ho avuto più volte in modo di dire in queste occasioni, l'assessore Sergio Bozzonello nei confronti dei rappresentanti del commercio e delle attività produttive ha fatto molto. Io in 24 anni sono presidente, penso di aver raccolto più strumenti e attenzione per il settore che rappresento in questi ultimi cinque anni da parte dell'assessore Sergio Bozzonello. Con questo ribadisco, ricominciamo da. Questo per dire ai futuri candidati, chiunque vinca, va migliorato quello che è stato fatto. Non vorrei che la politica, come sempre fa in molte occasioni, gettasse a mare quello che è stato fatto dal predecessore. Per quanto ci riguarda ci sono altre cose da fare, per esempio il riconoscimento dei nostri CAT anche come centri di formazione, per esempio un assessorato mirato alle attività per le politiche comunitarie. va portata avanti l'attenzione, è incrementato quella percentuale che viene trattenuta dai fondi strutturali per il territorio che oggi si attesta al minimo che è quello del 5%, noi chiediamo che vada almeno dall'8 al 10%. Chiediamo una particolare attenzione al tema dei trasporti, delle infrastrutture, della logistica. Per quanto ci riguarda bisogna evitare anche tutte quelle forme di campanile di tipo medievale che qualcuno vuole cavalcare. Riteniamo che il Friuli Venezia Giulia sia una regione talmente piccola per cui vadano create sinergie fra le varie realtà territoriali mantenendo le identità e nessuno deve cercare di cancellarle, ma in un gioco di squadra e non mettendo un campanile contro l'altro. Per quanto riguarda anche le Camere di Commercio è stato detto più volte dagli altri colleghi la volontà di avere una Camera di Commercio unica. Voi sapete benissimo comunque qual è la posizione mia e dell'associazione che rappresento, cioè d'accordissimo Camere di Commercio unica, d'accordissimo ricorso perché venga rispettato i pareri anche di una realtà come quella di Pordeone che è una realtà economicamente forte, però non mettiamoci contro qualcuno, noi con Udine dobbiamo dialogare, con Udine dobbiamo fare delle strategie perché con Udine abbiamo tutta una serie di cose in comune che ci… Siamo più simili agli udinesi che ai triestini. Sì, ma non per parlare male dei tresini, perché abbiamo caratteristiche, cioè noi dobbiamo rendere al massimo e quindi se ci mettiamo qualcuno contro l'altro facciamo danno a tutti e non è questa la strada giusta. Dopodiché andiamo verso la Camera di Commercio unica, ma intanto dialoghiamo con gli udinesi. E quindi noi auspichiamo poi sul tema della sicurezza che anche qua, io l'ho detto anche oggi a Fedrie, ma l'ho detto anche agli altri candidati, lo ribadirò anche a Sergio Bozzonello, c'è un problema di insicurezza, nonostante i dati ci vengono dati, la gente denuncia di meno… La percezione, soprattutto. La percezione, ma è una percezione anche reale perché se uno non denuncia più i furti e le rapine, questo non vuol dire che non ci siano, questi gruppi di extracomunitari che girano per le città magari non fanno niente, però mettono in sicurezza. Allora, questi steward che il Comune di Pordenone ha messo in pista e sul quale noi ci siamo trovati pienamente d'accordo, noi chiediamo che anche la Regione domani metta dei fondi perché questo tipo di sorveglianza continui ad operare e nello stesso tempo vengano rafforzate anche le forze dell'ordine perché ovviamente gli steward non si sostituiscono le forze dell'ordine ma devono servire a collaborare con le stesse. Tornerà con noi nei prossimi giorni Alberto Marchiori, Presidente regionale di ASCOM ConfCommerce, intanto grazie e buon proseguimento ovviamente a lei e ovviamente a chi rappresenta la categoria è una categoria che va tutelata dalla A alla Z perché non ci sono commercianti di serie A e soprattutto commercianti di serie B. Grazie ancora Presidente, ci vedremo nei prossimi giorni. Basa americana di Aviano, la denuncia dei sindacati scippati i posti di lavoro del personale italiano dipendente. La conferenza stampa stamattina, noi c'eravamo. La presenza americana sul nostro territorio è regolamentata dal Trattato del Nord Atlantico del 51 che in Italia è legge e dagli accordi bilaterali Italia-USA nonché dal nostro contratto di lavoro il quale al suo interno ha un memorandum di intesa tra noi come parte sindacale e la parte diciamo americana dove le presenze sono previste in base appunto al Trattato del Nord Atlantico quindi anche il nostro contratto si rifà a quegli accordi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel 2003 noi civili italiani eravamo oltre 800 dipendenti, circa 820. Oggi siamo 718. Quindi abbiamo perso oltre 100 posti di lavoro. nonostante le forze armate americane invece siano diventate più rilevanti sul nostro territorio. Al contrario dei civili americani i quali sono aumentati notevolmente. Oggi abbiamo una presenza di circa 600 lavoratori americani, non meglio identificati. Dico questo perché ci sono alcuni che sono in Italia a seguito della forza e quindi in regola con i trattati internazionali. Mentre altri sono in Italia con un visto d'ingresso come familiare al seguito che non permetterebbe loro di lavorare ma di fatto lavorano. Le nostre azioni sono state innanzitutto di denuncia dove questi equilibri non venivano più rispettati quindi la forza lavoro veniva a mancare. I nostri colleghi giorno dopo giorno, seppur non ci sono stati riduzioni, licenziamenti, vedendo andare in pensione i colleghi e non essendo rimpiazzati da nuova forza lavoro, ogni giorno ci contatta dicendo ma cosa sta succedendo. Quindi tutta questa forza lavoro che dovrebbe essere locale viene sostituita con forza lavoro secondo noi non autorizzata, ovvero noi abbiamo denunciato agli organi competenti, abbiamo investito alla Prefettura, abbiamo anche scritto al questore che ci ha ricevuto e abbiamo scritto al Ministero della Difesa, dell'Interno e Ispettorato del Lavoro. Quindi la denuncia è stata fatta in maniera ampia a tutte le istituzioni competenti. Le istituzioni sono informate di quanto sta venendo? Sono informate e addirittura il Prefetto di Pordenone si è espressa in modo chiaro e preciso decretando che questi permessi di soggiorno non autorizzano al lavoro, nonostante la controparte ci ha presentato un documento di visto d'ingresso che prevede nel 2000 un cambio di dicitura che in maniera più assoluta non autorizza al lavoro. Io ho visto che voi avete scritto a tutti, come al solito quando sei in Italia c'è sempre appunto, ovviamente nessuno ce l'ha mai con gli americani, anzi dobbiamo ringraziarli per il passato, per il presente, ma come ho detto prima il ringraziamento deve essere bilaterale. La cosa che mi fa un po' specie è quando loro non rispettano gli accordi, quindi cosa succede quando loro rispettano gli accordi? Non sono il politico di professione, per cui posso capire le problematiche del lavoro, ma soprattutto rispetto al fatto, come dicevate anche voi prima, che noi o i nostri imprenditori o anche noi dipendenti dobbiamo sempre rispettare dei contratti o sennò sia uno che l'altro rischia appunto a norme di contratto. Quello che bisogna capire è come mai questi possono permettersi di non rispettare dei contratti e nessuno intervenga. Dopo la soluzione nessuno probabilmente su certe cose ce l'ha immediate e ognuno magari pretende di avere la sua ragione, però almeno si discuta, si diano risposte ai lavoratori. Le interviste complete andranno in onda domenica nel corso dello speciale, domenica non è sempre domenica, anche perché quella della base americana ad Aviano è una questione molto 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 spinosa e già diverse forze politiche si sono attivate per cercare una soluzione che tuteli appunto i dipendenti civili italiani che vi lavorano all'interno. Il nostro prossimo ospite è Renata Bagatin, consigliere regionale uscente, lei si ricandida ovviamente al ruolo di consigliere regionale in forza al Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia, ben ritrovata Renata Bagatin. Parliamo di due argomenti molto caldi, dei quali però si tende a discutere molto poco in una campagna elettorale, ovvero vitalizzi e infrastrutture. Andiamo con ordine, vitalizzi cosa ci può dire in merito? Su questo direttore noi appena eletti, appena siamo stati eletti in consiglio regionale, ricordo molto bene la data, è stato il 2 di agosto, abbiamo fatto una legge regionale che ha abolito i vitalizi da subito dei consiglieri regionali e inoltre sono state regolamentate totalmente le spese sempre dei consiglieri regionali. Questo ha voluto dire un risparmio di 4 milioni all'anno per quanto riguarda il tema dei vitalizi. L'altra questione è stata quella della riduzione dei costi ai gruppi consigliari. Anche qui un risparmio di 2 milioni all'anno di spese. Queste sono delle cose che io ritengo davvero molto importanti perché adesso i compensi per i consiglieri regionali sono come il sindaco della città capoluogo. Allora è una questione di correttezza, di equità, mettere nelle condizioni come dire un consigliere regionale che ha le stesse caratteristiche di un sindaco appunto della città capoluogo. Questo per me è stato un terreno molto importante perché mi ha permesso proprio di lavorare e di essere concreta con i cittadini senza avere e quindi senza alla fine avere nessun tipo di privilegio come hanno avuto tanti colleghi prima di noi. È un dato importante che ritengo di dover proseguire anche nel futuro e che quindi questa legge venga assolutamente mantenuta. Una ragione che funziona, funziona anche grazie alle infrastrutture. In questi anni, sebbene appunto se ne dica sono state create tante e soprattutto sono state messe le basi per altre nuove tante magari verranno create in futuro. Esatto. Cosa vuole ricordare in particolare ma soprattutto cosa vorrebbe creare in futuro? Completamente o sicuramente della terza corsia. Ci sono adesso dei disagi che però questo vuol dire una terza corsia che io la faccio tutti i giorni per Danone Trieste e vedo che ci sono tantissimi camion quindi c'è assolutamente bisogno della terza corsia ma nello stesso tempo c'è anche bisogno di un rafforzamento per quanto riguarda la rotaia e anche su questo come regione siamo davvero intervenuti in maniera concreta. Voglio parlare anche in questo caso per quanto riguarda la terza corsia sono stati impiegati 663 milioni di euro con fondi europei, nazionali e regionali. Altra questione è il porto di Trieste che interessa soprattutto anche le nostre realtà territoriali quindi anche questo dobbiamo fare sinergia. si parlava prima siamo una piccola regione che deve guardare in avanti guardare su assolutamente l'interesse delle imprese e di tutti noi quindi avere un porto che funziona prima era in decadenza adesso un porto che funziona è un porto che lo possiamo definire a livello nazionale il primo porto che fa grandi commerci appunto con la Cina e con tante altre parti del mondo. Ultima questione io penso la questione dell'aeroporto. L'aeroporto di Trieste anche in questo caso una situazione di declino rimesso in ordine, risanato i debiti, rimesso in funzione. Ora questa realtà è riconosciuta e ci sono molti investitori che vogliono entrare in società appunto con questo. Allora le cose che io dico sono queste, dobbiamo continuare pensando a una regione in termini generali, complessivi, che guarda in avanti, che guarda in Europa e che diventa davvero un punto forte di riferimento nella nostra regione ma in termini complessivi nazionali e europei. Io ringrazio come sempre Renata Bagatin, candidata al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il PD. Con lei però ci vedremo anche nel telegiornale di sabato. Grazie ancora. L'attitante romeno arrestato al valico di Fernetti. C'è il servizio. Si era reso irreperibile dopo la condanna definitiva emessa dal Tribunale di Padova nel 2012 ma è stato arrestato sull'alto piano carsico dagli agenti del settore di polizia di frontiera di Trieste. Si è data di un romeno, 44 anni, di queste le iniziali che deve scontare 8 mesi di reclusione per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento. Ora è rinchiuso nel carcere del coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prossimo ospite, l'assessore Cristina Ammirante, assessore al Comune di Pordenone. Ben ritrovata assessore. So che tra altre cose è riduce anche da diversi impegni politici. Parliamo di regolamento acustico. Se ne è parlato tanto della necessità di adottarlo. Siamo ormai arrivati alla fase finale. Che città sarà Pordenone con questo nuovo progetto? Sicuramente è una città nella quale le categorie che si contrappongono davanti a questo regolamento troveranno un punto di incontro. Le abbiamo incontrate tutte tra ieri e oggi. Quindi sono sia i cittadini residenti che sono rappresentati in associazioni che vogliono garantire il silenzio al riposo sia le categorie ovviamente di chi esercita la propria attività in città con esercizi commerciali di somministrazione e inoltre le associazioni che insieme all'amministrazione comunale organizzano eventi e manifestazioni. Il regolamento acustico serve proprio a dare regole certe, chiare e sicure per tutti in modo tale da dare la possibilità a chi vuole fare degli eventi, delle manifestazioni che sono sempre manifestazioni in deroga a una regola generale che è quella del rispetto dei limiti acustici e allo stesso tempo garantisce appunto un buon clima acustico della città. Come ci siamo riusciti? Abbiamo fatto una cosa ben diversa da quella che era ferma in un cassetto da due anni perché il regolamento acustico è stato redatto insieme al piano di zonizzazione acustica dalla precedente amministrazione, siamo nell'aprile 2016, viene approvata ma il regolamento no, forse perché era scomodo in quel momento durante le elezioni andare comunque a portare avanti uno strumento nel quale c'è chiaramente un po' di attenzione, un po' di argomenti delicati. Si va magari a scontentare. Esattamente, però bisogna affrontarlo perché ne va della salute dei cittadini, quindi è uno strumento essenziale. Noi abbiamo suddiviso la città per fare omogenee scientificamente, andando a fare uno studio sulla capacità acustica degli edifici, quindi dove si propaga il suono in modo tale da dire dove ci sono queste zone dove applicare le singole regole, in modo tale da evitare discriminazioni come prima invece era previsto, un'unica grande area dove bene o male si limitavano a 30 gli eventi all'anno. Questo avrebbe chiaramente creato un problema per alcune categorie, mentre in altre zone c'era una microdivisione che avrebbe consentito molti più eventi durante l'anno. Quindi era una situazione molto discriminante per alcuni. Abbiamo voluto riportarla a una base scientifica. D'altre cose, ossessore, oggi nella stampa locale anche il presidente dei commercianti di Ascom Commercio, applaudiva proprio, finalmente, perché adesso è una giungla, quindi anche loro hanno applaudito a questa iniziativa. Sono contenta che anche l'associazione Acquanova ha riconosciuto che in questo ultimo anno la situazione in città è molto migliorata e questo mi ha fatto molto piacere. Parliamo invece di benedizione del Bertossi. Sì, grazie direttore. Sono sinceramente allibita per quello che ho letto stamattina sul giornale, cioè il fatto che un sindacalista abbia in odore di elezioni dell'RSU cercato qualche voto di qualche dipendente comunale strumentalizzando tre infortuni dei nostri dipendenti. Tra l'altro tre ottimi dipendenti che si sono fatti male sono ancora a casa, noi gli siamo vicini in questo momento e il fatto che un gruppetto di molto grandi in realtà di dipendenti dell'edificio di via Bertossi abbiano chiesto la benedizione. Perché? Perché dal 2006 l'edificio è senza la benedizione mentre tutti gli altri edifici comunali ce l'hanno. Noi come amministrazione l'abbiamo accolta, non abbiamo trovato assolutamente niente di male in questa richiesta. Io ho partecipato volentieri visto che corrisponde ai miei valori cristiani e cattolici e sinceramente invece la strumentalizzazione di un sindacato, ripeto, che dice che non abbiamo convocato il tavolo quando la PEC c'è ed è un documento ufficiale, formale che dimostra che il tavolo è stato convocato e che invece è stato spostato alla data su richiesta degli stessi sindacati che dicono siamo impegnati nelle elezioni dell'RSU, per favore facciamolo in un momento successivo. Quindi io sono veramente allibita, per non dire arrabbiata sinceramente perché lo trovo vergognoso. Una buona iniziativa dei dipendenti e dei dipendenti a casa che hanno bisogno solo della nostra solidarietà. Mi permette appunto questa battuta, io trovo veramente scandaloso e anche ripugnante fare la propria campagna elettorale sulla pelle dei dipendenti lavoratori. Assolutamente, tra l'altro che dovrebbero essere tutelati dal sindacato. Chiunque sia, che sia stato sindacato o altro, o politico. Sì, sì, ma infatti è stato un sindacalista, ci tengo a dirlo perché l'intervista è su uno solo e non su tutti gli altri, però insomma io voglio dire la mia su questo argomento perché mi ha particolarmente toccato. Ci vediamo la settimana prossima, grazie come sempre a Cristina Mirante, assessore al Comune di Pordenone. Parliamo di sequestro di materiale cinese avvenuto a Paradamano nella fu provincia di Udine. I carabinieri della stazione di Palmanova hanno effettuato nei giorni scorsi un maxi sequestro di merce contraffatta scoperta in un negozio gestito da un cittadino cinese di 67 anni all'interno di un centro commerciale all'ingrosso a Paradamano. Il valore della merce contraffatta, posto in vendita a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto agli originali, si aggira intorno ai 250 mila Euro, mentre il valore totale del danno prodotto alle case produttrici è da considerarsi pari a 1,2 milioni di Euro. I carabinieri hanno posto sotto sequestro oltre 6 mila paia di occhiali da sole finti Armani e Ferrari venduti a 30 Euro al paio, 22 portafogli femminili venduti a 40 Euro e 19 casse acustiche Bluetooth false vendute a 50 Euro al pezzo. All'apparenza i prodotti contraffatti apparivano di ottima fattura e molto simili agli originali. Abbiamo un altro ospite, lui è Stefano Turchetta e si candida al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la Lega, ben ritrovato ovviamente a Turchetta. Campagna elettorale che è entrata proprio nel vivo, arrivano i big, tra le altre cose in suo appoggio e in suo sostegno, tra le altre cose ci sarà il governatore della regione Veneto Zaia e anche appunto il giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam. Ci può raccontare appunto questi avvenimenti che sono anche importanti per il nostro territorio? Sì, ritengo importante che Luca Zaia, il governatore, dicono più amato d'Italia, incontri i cittadini del Porto Edonese e risponde alle loro domande, magari spieghi loro come nel Veneto in questi ultimi anni si è riusciti ad ottenere nei vari campi dei risultati importanti, penso al lavoro, alla sanità, alle infrastrutture e quindi avremo il governatore Zaia a Cordenons giovedì 19 aprile alle ore 18, poi si sposterà a Porcia e successivamente a Sacia, a Cordenons in piazza della Vittoria, ci sarà anche una piccola bicchierata, un incontro con i cittadini. Le ragioni per le quali Zaia è qua è certamente quello di sostenere i candidati della Lega Nord alle prossime elezioni regionali e portare anche una ventata di ottimismo nei confronti di una squadra che sta lavorando per Massimiliano Fedriga veramente al massimo, anche se per ragioni che si sanno siamo partiti un pochettino tardi, stiamo recuperando e il governatore Zaia è sicuramente una persona che sarà in grado di portare il buon esempio. E venerdì invece avremo a San Quirino una serata, un incontro, Magdi Alam incontra i cittadini di San Quirino e presenta il suo nuovo libro, appunto Il Corano senza veli. Ecco, colgo l'occasione per dire questo, oggi sentivo che il presidente Macron si è espresso in questi termini, in sintesi dice che bisogna rinunciare ai sovranismi, bisogna rinunciare agli egoismi, tenere lontani i populismi perché fanno male all'Europa e io dico a Macron che dovrebbe essere la Francia per prima a rispettare questi principi perché sia lui che la Merkel non mi sembra che in questi ultimi anni siano stati particolarmente teneri nei confronti di un paese come l'Italia. La Francia in particolare è un paese dove l'Islam è presente in maniera massiccia. Io anche da insegnante posso dire questo, che ritengo fondamentale dialogare con gli islamici, con i musulmani che sono presenti nella nostra provincia, ma rendere anche consapevoli i cittadini che questo è un fenomeno che va governato, ovvero le ragioni della loro religione vanno studiate, con loro si parla, però nel momento in cui abbiamo questa fortissima immigrazione entrano nel nostro paese delle persone che potenzialmente… Secondo lei, Turchett, i flussi migratori sono controllabili o sono incontrollabili? I flussi migratori sono controllabili, la Lega lo sta dicendo da tanto tempo, si parte dai paesi d'origine e i paesi dai quali queste persone si muovono per la gran parte non sono paesi in guerra, ma sono paesi dove c'è in nato una pulizia, chiamiamola etnica, da parte di grandi imprese multinazionali mondiali che scacciano gli africani perché hanno bisogno di pompare il loro petrolio o di portare via comunque i loro minerali e guarda caso hanno scelto che cosa? Hanno scelto l'Italia che secondo me sta diventando un paese cuscinetto. i migranti vengono di qua, noi non siamo in grado di accoglierli, di farli lavorare, il paese si indebolisce ulteriormente e è un po' quello che è successo al Friuli Venezia Giulia in questi ultimi anni che dal mio punto di vista ha perso tante opportunità, non è stato in grado di sfruttare la sua specialità, io credo che la specialità sia stata persa e Zaia credo invece che con il referendum che ha vinto in maniera molto forte negli ultimi mesi abbia dimostrato che se un popolo si muove può veramente cambiare le sorti di se stesso diciamo. Grazie come sempre a Stefano Turchetti, altre cose ci vediamo domani in quella di Cordenosa anche perché sicuramente sarà un'occasione per scambiare quattro parole anche con il governatore della regione Veneto Zaia, ricordo Stefano Turchetti si candida al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la Lega. Grazie ancora. Deposito di fanghi di drenaggio scoperto dalla guardia costiera di Carle a ridosso della laguna del Mort, l'area è finita sotto sequestro. Depositavano materiale da escavo proveniente dall'attività di dragaggio lungo la scogliera che protegge la stessa dalle acque della laguna del Mort. Questo lo scenario che si è presentato davanti al team della guardia costiera di Carle coordinata dal tenente di vascello Francesco Passaro durante un'attività di controllo in materia ambientale svolta nelle scorse ore. Durante la verifica il personale operante ha potuto appurare come all'interno della Darsena nel corso dell'ultimo mese si fossero svolte alcune attività manutentive tra cui lo spostamento e la sostituzione di alcune briccole. Tale tipologia di attività qualora svolta all'interno di un'area demaniale marittima in concessione, come nel caso di specie, necessiterebbe della preventiva emanazione di un'apposita ordinanza finalizzata a disciplinare gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione. L'emissione di tale provvedimento, secondo la guardia costiera, non è mai stato richiesto alla competente autorità marittima. Il risultato della manutenzione è stato l'accumulo di un ingente quantitativo di materiale fangoso lungo la massicciata di protezione della Darsena per un'area totale di circa 500 metri quadrati, il che ha determinato un deposito incontrollato di fanghi di dragaggio. Inoltre, da quanto appurato dai militari, nessun controllo chimico-tossicologico del materiale fangoso sarebbe stato effettuato prima che questo venisse depositato sulla diga, lasciando aperta un'ipotesi di contaminazione ambientale. Per questo motivo l'ufficio circondariale marittimo di Caorle ha immediatamente preso diretti contatti con l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, la quale nei prossimi giorni espletterà i dovuti approfondimenti. L'area di deposito dei fanghi è stata infine sequestrata sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Venezia. Abbiamo un altro ospite in studio, lui è Paolo Panutin, assessore regionale uscente della giunta Serracchiani, candidato anche al Consiglio regionale per quanto riguarda i cittadini, a sostegno di Sergio Bolzonello. Parliamo di finanza comunale in sintesi, ovvero come se la cavano i comuni a livello di trasferimenti regionali che arrivano proprio da Trieste? Qual è il polso della situazione? Ma il polso della situazione, a me piace molto parlare di numeri, come avrete capito, e preferisco i numeri alle chiacchiere. Il polso della situazione, più che come lo definisco e come posso illustrarlo io, viene definito e illustrato in uno studio recente, IFEL significa la fondazione del ANCI, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che fotografa la situazione a livello italiano. E che cosa ci dice questo studio sostanzialmente? Ci dice che i nostri comuni negli ultimi anni, nell'ultimo quinquennio sostanzialmente, in paragone con i comuni veneti, ma con i comuni di tutta Italia, hanno ricevuto risorse e stanziamenti di parte corrente. Spiego agli ascoltatori che cosa significa. Le risorse che noi distribuiamo ai comuni per poter rendere i servizi ai cittadini, per dare i servizi nel territorio, di ogni tipo, di qualsiasi tipo. Ebbene, a fronte di una pressione tributaria, che sono i soldi che sostanzialmente vengono chiesti ai cittadini, equivalente per quanto riguarda la nostra regione, che gestisce in autonomia la finanza locale, rispetto alla pressione tributaria, per esempio, di tutte le regioni del Nord, siamo allo stesso livello di pressione tributaria. Quindi chiediamo ai cittadini le stesse risorse per rendere loro dei servizi. Mentre per quanto riguarda i trasferimenti di denaro verso i comuni, nel Nord, nel resto del Nord, e non parlo delle regioni speciali, ma dal Veneto alla Lombardia, eccetera, i trasferimenti sono calati del 40,7% negli ultimi anni. 40,7%. Non male. No, direi molto. Nel Veneto il 45%. Mentre nel Friuli Venezia Giulia negli stessi anni, il dato è, seppur leggermente, ma sostanzialmente è invariato, è in aumento dello 0,1%. Cioè sostanzialmente abbiamo garantito, a fronte della crisi, di tutto quello che è accaduto, gli stessi trasferimenti. Un tempo, una quota parte pari, chiamati decimini, cioè un 10% delle entrate regionali per la tassazione venivano riversati ai comuni. Quella percentuale aumentata al 13,21% per garantire l'invarianza delle risorse verso i comuni. E qual è la forbice per quanto riguarda la spesa corrente pro capite di ogni cittadino, cioè quanto i comuni spendono per ogni cittadino nella nostra regione e nelle regioni vicine? Anche qui i numeri sono impietosi perché nel Veneto sono calate le spese del 7,9%, quindi meno di fatto servizi, mentre in Friuli Venezia Giulia negli stessi anni sono aumentate del 13,8%. Quindi l'autonomia va difesa come l'abbiamo difesa noi ed è un'opportunità che non dobbiamo farci scappare. E in generale chi a volte cerca di accreditare la tesi che la regione matrigna nei confronti dei comuni deve sapere, e vi do l'ultimo dato diciamo economico, deve sapere che quando arrivamo, parlo ovviamente della mia giunta e parlo delle mie deleghe, di ciò che ho fatto in questi anni, quando arrivamo troviamo una situazione di questo tipo. I comuni ricevevano globalmente 407 milioni nel 2013, noi arrivamo a metà anno, quindi questo era frutto ovviamente del bilancio di chi ci aveva preceduto. Nell'anno successivo, nel 2014, li abbiamo aumentati a 450 milioni, poi sostanzialmente invariato a 4,47, a 4,45 nel 2015, nel 2016, nel 2017 sono aumentati a 476 milioni e nel triennio 18-20 abbiamo previsto quest'anno 454 milioni, quello che ho detto prima fino al 2017 è frutto anche delle manovre estive, delle integrazioni, qui invece siamo inizio anno, la manovra estiva la farà chi arriverà evidentemente, 483 milioni nel 2019 e 488 milioni nel 2020. Complessivamente noi abbiamo lasciato un bilancio che garantisce nel triennio che viene, cioè 18-19-20, 1 miliardo 430 milioni di risorse a favore dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Non solo, aggiungo che per ogni annualità, in aggiunta a quanto ho appena detto, vengono erogati 75 milioni di euro per i servizi sociali, cioè ciò che va anche lì a beneficio della cittadinanza, con altri canali non gestiti da me. Ultimo dato importante, i comuni di questa provincia soffrivano storicamente di minori trasferimenti rispetto ad altre aree del territorio regionale. Tecnicamente questa si chiama per equazione ma è un termine difficile da comprendere per gran parte degli ascoltatori. Si tratta sostanzialmente di una revisione del sistema dei trasferimenti, dallo storico all'attuale, che tiene conto di differenze storiche che non erano calcolate in precedenza e che hanno portato di parte corrente a beneficio dei comuni di quest'area territoriale, di questa provincia, 10 milioni di euro in più. Questo è quanto, questa è la realtà dei fatti, certificata anche da studi degli stessi comuni che dicono qual è la differenza e l'ho già citato, il caso Sappada e l'entrata di Sappada in questa regione ha dimostrato come prova del 9 che quel comune ha avuto 900 mila euro di trasferimenti in più per il solo fatto di essere entrato in questa regione. Bene, ci vediamo nei prossimi giorni anche con Paolo Panotin, assessore regionale uscente e si candida al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per i cittadini a sostegno di Sergio Bolzonello. Grazie ancora. Andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. A voi. Sì, grazie Alberto. Con Matteo Baruzzo. Le chiedo subito, lei tra l'altro è anche nel direttivo provinciale di Forza Italia. Che futuro ha questo partito? Soprattutto c'è anche chi dice in Veneto facciamo un partito unico con la Lega a livello nazionale. Lei che cosa ne pensa? Sì, buonasera. Personalmente l'aveva approvato Berlusconi con la nascita del partito delle libertà. Io penso che non ci siano altre soluzioni che non quella di unificare le forze. I partiti piccoli sono destinati a morire, lo saranno sempre e quindi bisogna avere la capacità di guardare avanti, non di guardare alle poltrone, di non guardare alle sedie, di non guardare gli incarichi, ma di guardare ad un progetto unico che possa durare nel corso del tempo. Anche perché, voglio dire, Berlusconi, da un certo punto di vista, tra le varie difficoltà che ha avuto nel corso degli anni, vi è soprattutto quella di non essere riuscito a trovare davvero un successore? Che se ne dica, comunque sia, tutti i partiti si identificano in una persona e quindi il principio del populismo, di essere tutti quanti, non abbiamo visto che non porta. Anche i 5 Stelle hanno un punto carismatico che è Beppe Grillo, ma è il sostituto di Maio, ma si identifica sempre in una persona. Quindi Forza Italia, con la Lega, non con la Lega, comunque dovrà cercare di guardare avanti ed unificare e così pure anche la Lega, perché oggi sta governando in buona parte delle nostre regioni del centro nord, ma in un futuro le cose non vanno. In politica si sale e si scende, quindi bisogna avere la capacità di andare avanti e di unificare le idee e i progetti. Si sente nel Paese una sorta, anche a fronte delle elezioni, di sentimento relativo a temi come sicurezza, come immigrazione, ma anche insomma come lavoro, piuttosto che altri temi forti che inducono insomma l'elettorato a sposare anche delle tesi che fino a qualche mese fa erano definite demagogiche e che invece adesso dovrebbero diventare dei programmi di governo. Si sente questo sentimento? Sicuramente il problema della sicurezza, il problema del lavoro, il problema che lei ha accennato sono problemi che non sono né da oggi né da ieri, ma sono sempre presenti nel nostro territorio e bisogna avere sempre la capacità di andare con la concretezza e non più raccontare insomma dei discorsi che lasciano il tempo che trovano. La gente non ha più tempo di aspettare. La gente vuole risposte. Grazie a Matteo Barruzzo per essere stato con noi, linea che può tornare a Pordenone. Andiamo con un altro ospite, lui è Cristian Baccher, già sindaco del Comune di Fiume Veneto, si candida al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per progetto FVG Fedriga, Presidente. Se le dico politiche abitative, a lei cosa mi risponde? Quali sono le necessità di questa regione? Allora, diciamo che le necessità sono sicuramente importanti e significative. Io, prima di concludere il mandato, assieme al Comune di Azzano Decimo e al Sindaco Putto, abbiamo fatto riaprire un bando per le case Ater, per quanto riguarda il Comune di Fiume Veneto erano dieci anni che non veniva più aperto un bando e l'esigenza si è subito dimostrata, perché le richieste, la graduatoria adesso è ancora provvisoria, però sono circa 140. Questo ovviamente evidenzia che c'è un bisogno di politiche abitative per tutta una serie di motivazioni che nascono un po' da tante fragilità che ancora ovviamente alcune situazioni familiari vivono. Per cui il Presidente Fedriga su questo tema si è impegnato e ha dichiarato in maniera ufficiale che c'è bisogno di un vero e proprio piano straordinario, perché le politiche abitative possono avere un binomio molto importante anche nel rilancio dell'edilizia. Ovviamente il fatto di poter riconvertire degli immobili che sono di proprietà privata attualmente in disuso in favore appunto di abitazioni che possono rientrare appunto nel circolo dell'edilizia sovvenzionata è sicuramente una mossa intelligente, anche perché siamo abituati a quelli che sono le palazzine Ater degli anni 80, dove sono grandi condomini che poi alla fine rischiano di diventare anche dei ghetti e si è passati via via negli anni ad una concezione diversa, sicuramente migliore, che è quella che può vedere questi appartamenti e questi alloggi sparsi ovviamente nel territorio, quindi con maggiore decoro e anche ovviamente con un po' più di dignità per chi vi abita. Per cui sicuramente questo è un tema che ci vedrà impegnati e ci vedrà impegnati anche nel tutelare prima di tutto i cittadini italiani, perché questo è un aspetto che è stato messo un po' in secondo piano, ma un buon padre di famiglia e quindi anche una regione prima di tutto deve guardare i propri cittadini e poi pensare ovviamente anche agli altri. Questo perché a fronte di molte esigenze è giusto che vi sia anche un criterio di priorità di questo genere. Quando si parla poi di politiche abitative si parla anche di abitare sociale. Uno dei temi che andremo subito ad affrontare, sul quale insomma intendiamo impegnarci, è proprio quello anche del dopo di noi per quanto riguarda le persone diversamente abili. Ci sono già dei finanziamenti che sono stati recepiti dalle aziende sanitarie ormai da diverso tempo, è ora di metterle in moto e anche perché ovviamente le necessità si fanno impellenti. Quindi nuove sfide sull'abitare e soprattutto anche un connubio importante sul rilancio dell'edilizia che di questi tempi sicuramente non è male. Ci vediamo nei prossimi giorni anche con Christian Vaccar, candidato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia per progetto FVG. Federica, Presidente. Grazie. E ovviamente al prossimo appuntamento torniamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti. Continuiamo a parlare di politica perché insomma il Partito Democratico è fuori da un certo punto di vista di ragionamento nel governo. Le chiedo a livello locale che ripercussioni potrebbero esserci e soprattutto questa eventuale spaccatura tra Lega e Forza Italia, soprattutto a livello locale, può portare acqua al mulino del centro-sinistra? Ma la spaccatura locale in realtà, o comunque anche a livello nazionale, c'era già da prima delle elezioni. È stata un'alleanza ovviamente di convenienza opportuna, anche però non è che fossero base, le solide le basi per cui stessero assieme precedentemente le elezioni politiche. Quindi proprio in occasione di questa scadenza elettorale. Per quanto riguarda l'elettorato e la situazione del PD è difficile a prescindere dalle divisioni altrui, dal momento che sappiamo specialmente nella realtà locale Veneta che le difficoltà vengono da lontano e non di certo solo in occasione appunto dei mesi che hanno preceduto le elezioni, quindi dalla campagna elettorale e poi anche alla luce dei risultati non di certo soddisfacenti per quanto riguarda centro-sinistra. Quindi sicuramente ci sarà da ricostruire, partendo comunque anche da quegli aspetti positivi che tuttora ci sono. Piccolo consiglio, sinceramente credo che la soluzione a questo impasse di certo non sia quella di portare ulteriormente acqua e il mulino altrui dal momento che quello che è stato fatto credo in questi anni, aspetti positivi anche, certo quelli negativi hanno portato il loro esito che è abbastanza forte e significativo con l'esito delle elezioni che quindi non lascia spazio a recriminazioni o giustificazioni o comunque ripensamenti. Questa è la situazione e quindi è giusto che con questi risultati siano altri a doversi prendere la responsabilità di fare un governo e credo che anche un po' di minoranza, di opposizione non faccia per nulla male, anzi credo sia opportuno in questo caso e doveroso da parte del centro-sinistra. A livello locale, 30 secondi, contano sempre di più le persone a differenza dei partiti o viceversa rispetto al passato? Questo sicuramente sì, certo però che se andiamo a vedere la situazione, l'esito anche a livello locale capiamo che non si votano tanto le persone per quanto riguarda l'aspetto politico anche locale diverso e quello amministrativo comunale ma si guardano i simboli e soprattutto le promesse non il lavoro svolto, questo mi pare che sia evidente alla luce proprio analizzando anche a livello nostro più vicino. Grazie ad Alessandro Danone per essere stato con noi, linea che può tornare al direttore Alberto Comincio. Ci trasferiamo con ospite, torniamo appunto ai nostri studi a Pordenone abbiamo Mauro Biolcati, lui si candida al Consiglio regionale per il Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle. Ben ritrovato ovviamente Biolcati, una domanda sorge spontanea, un programma ambizioso. Dove trovate le risorse economiche per realizzare il vostro programma? Bene, buonasera ai telespettatori e grazie per lo spazio che mi viene concesso. Le risorse le troviamo nel bilancio regionale, la regione Friuli Venezia Giulia ha un bilancio approssimativo di 4 miliardi e mezzo più o meno. E come nello spirito del Movimento 5 Stelle partiremo sicuramente dal taglio delle indennità dei consiglieri e della Giunta e di tutti gli organismi di direzione della regione. Ricordo ai telespettatori che i nostri cinque portavoci uscenti nell'arco della Consigliatura hanno restituito oltre un milione. Solo imitare a livello di intero Consiglio regionale sono 10 milioni nella Consigliatura di 5 anni. Quindi è già questo un dato concreto. Oltre a questo possiamo mettere mano anche a tutti quei meccanismi di rimborso e di disponibilità anche nei gruppi consigliari. I candidati che mi hanno preceduto sono stati forse più precisi di me nella dovizia di numeri. Però se tutto quello che hanno fatto è così tutto bello non riesco a capire perché i cittadini si sono un po' scontenti quando ci chiedono e ci incontrano per i mercati e parliamo del nostro programma ci manifestano un disagio e questo probabilmente non è proprio questo tutto oro quello che è colato. Riorganizzeremo le partecipate. Questo è un grosso settore del bilancio regionale nel quale noi riteniamo ci siano molte sacche di spreco. Diciamo che il concetto è di arrivare a una spending review di tutto quello che è il bilancio regionale andando a cercare capitolo per capitolo tutte quelle che sono le piccole somme ma che sommate insieme e abbiamo fatto un calcolo approssimativo potremmo arrivare a oltre 100-150 milioni. Quindi diciamo che le risorse vorremmo che fossero oculatamente gestite. La destinazione poi di questi fondi qua potranno essere affini a quello che è il programma poi dopo gli investimenti del programma 5 Stelle. Le risorse possono essere reperite anche potenziando gli strumenti di acquisizione dei fondi europei. Noi abbiamo dei fondi indiretti che vengono gestiti a livello regionale ma intenderemo creare i presupposti perché anche in collaborazione con le associazioni di categoria e anche con gli enti locali creare una rete, una struttura per la quale poter accedere in maniera più precisa anche ai fondi diretti. Bene, ovviamente siete anche voi nel bel mezzo alla campagna elettorale. Dopo Di Maio che ha fatto visita a Udine arriveranno ospiti illustri a rappresentarvi. La ringrazio, le prendo ancora un po' di spazio. Volevo ricordare ai telespettatori che venerdì, quindi fra quattro giorni, il giorno 21, scusate sabato 21, sempre alle ore 21, scusate il gioco dei numeri, presso il chiostro della biblioteca di Pordenone avremo un incontro con il nostro candidato alla presidenza della regione Alessandro Fraleoni Morgera, con la partecipazione del nostro eurodeputato Marco Zullo e anche di Gianluigi Paragone, neosenatore eletto nelle file del Movimento. L'argomento è l'argomento principe anche del programma del Movimento 5 Stelle. Il lavoro da difendere, quello che ne è rimasto dopo gli ultimi dieci anni di crisi, ma anche il lavoro da creare perché il mondo evolve e quindi il nostro programma è orientato alle nuove tecnologie, ai nuovi modi di lavorare, alle nuove professioni. Io ringrazio Mauro Biolcati, si candida al Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle con gli amici pentastellati, ovviamente ci vedremo anche venerdì. E intanto si è tenuta oggi l'ultima seduta del Consiglio provinciale di Udine ad aprire l'assemblea, è stato il Presidente Fabrizio Pitton che prima di dare inizio ai lavori ha commemorato la figura del Presidente dell'Associazione Partigiani Osoppo, Cesare Marzona, scomparso domenica 15 aprile, quindi i consiglieri sono stati chiamati a ratificare una variazione di bilancio di previsione 2018-2020 che riguarda storni di spesa per 153.831 euro e minori entrate per 281.168 euro. Nella variazione sono inclusi anche i fondi a copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze o conciliazione giudiziale e relativi al pagamento delle spese legale per alcune cause che hanno visto la provincia, soccombente ad esempio il ricorso al TAR contro il commissario ad acta inviato dalla Regione per la definizione del piano di subentro in materia di edilizia scolastica o ancora contenziosi in materia di lavoro. Quindi di fatto la provincia di Udine oggi ha tenuto l'ultima seduta del Consiglio provinciale di Udine tra le altre cose prima delle elezioni regionali del prossimo 29 aprile. Chiudiamo in bellezza con il sindaco della cittadina, si chiudiamo in bellezza ovviamente è un modo di dire, con il sindaco della cittadina di Azzano Decimo Marco Puto. Parliamo di pompieropoli anche perché sempre più spesso sono i bambini che prendono spunto dai pompieri che sempre di più vengono visti come degli eroi. Azzano li ha ospitati. Proprio oggi la piazza di Azzano Decimo ha ospitato 315 bambini delle scuole dell'infanzia del territorio. Parliamo dell'infanzia statale Giovanni Paolo II e delle due scuole dell'infanzia paritarie Beata Vergine del Rosario di Azzano Decimo e Sacro Cuore di Tiezzo. È stata un'occasione divertente ma allo stesso tempo molto educativa che ha visto protagonisti bambini di 5-6 anni, quindi i medi e i grandi della scuola dell'infanzia, che hanno potuto cimentarsi in alcuni percorsi ludici, educativi e didattici allestiti dai Vigili del Fuoco, o meglio, allestiti dalla sezione provinciale dei volontari Vigili del Fuoco che fanno riferimento al gruppo nazionale. Sono quelle persone che praticamente in passato hanno fatto i Vigili del Fuoco e che si cimentano tutt'oggi per diffondere quell'importante messaggio della sicurezza e della prevenzione alle giovani generazioni. È stato bello vedere percorsi che presentavano per esempio piccole costruzioni con dei gattini da salvare, dei piccoli fuochi allestiti da spegnere, oppure dei percorsi ad ostacoli che da un lato facendo divertire, ma dall'altro facendo educare, educando, hanno fatto capire ai piccoli quanto importante sia il volontariato e quanto importante sia l'azione che certe persone, spesso nel silenzio, ma quotidianamente, svolgono per la loro e per la nostra sicurezza. Io ci tenevo a ringraziare davvero con il cuore questa ventina di persone che oggi erano presenti, appartenenti a questa associazione, sezione di Pordenone, perché davvero con grande entusiasmo nell'arco di tutta la mattinata si sono cimentati a turno proprio con questi bambini. Come detto siamo arrivati alla quinta edizione, contiamo di proseguire ancora negli anni a venire e abbiamo visto davvero anche da parte degli insegnanti, da parte di responsabili delle strutture e da parte anche degli uffici comunali, che ringrazio anch'essi per la collaborazione, un grandissimo entusiasmo. Oggi davvero ci sono tantissime opportunità per imparare, tantissime opportunità per educare e confidiamo che questi piccoli grandi insegnamenti possano dare frutti poi per gli adulti del futuro. Io ringrazio come sempre il sindaco della cittadina di Aziano X Marco Puto, con lui state sicuri che ci vedremo anche la settimana prossima. Vi lascio alle previsioni del meteo, vi lascio poi alla borsa, a tutte le altre notizie che arriveranno dalle nostre redazioni di Udine e del vicino Veneto, ma rimanete soprattutto sintonizzati ancora con noi a partire dalle 21 perché ospite di Omar Costantini dagli studi di Udine, il vicepresidente uscente della giunta regionale Sergio Bolzonello che si ricandida e questa volta la presidenza del Friuli Venezia Giulia stesso, con lui tanti altri ospiti che anche loro si candideranno appunto al consiglio della nostra regione. Friuli Venezia Giulia rimanete con noi e per quanto mi riguarda è davvero tutto, ci vediamo domani. Buonasera a tutti, allora le previsioni per questa scorcia di settimana direi sono abbastanza monotone in qualche modo, prevediamo un tempo dominato l'anticiclone e quindi soprattutto con temperature decisamente miti, già domani andremo con un cielo in genere sereno, al più poco nuvoloso, bora moderata sulla costa con una atmosfera più secca qui che in pianura, zero termico oltre i 3000 metri e temperature minime tra i 12 gradi della pianura e 15 della costa massime, salgono anche a 27 gradi localmente sulla pianura, piuttosto elevate anche sulla costa stante labora, intorno ai 24-25 gradi. Anche giovedì è una giornata dal cielo sereno, con borino al mattino, poi brezza, temperature massime fino a 27 gradi in pianura, sulla costa faranno in tempo toccare 23-24 gradi per poi diminuire leggermente nel pomeriggio, complice la brezza. Anche a venire il sabato cielo prevalentemente sereno, bel tempo, ancora un po' di borino nelle ore notturne, forse venerdì in parte anche di giorno e temperature venerdì ancora stazionarie su valori ben sopra i 25 gradi in pianura, intorno a questa cifra nei valori massimi sulla costa. Sabato, stante l'avvento di brezza nei bassi strati, probabilmente qualche grado in meno, l'aria un po' più fresca del mare mitigerà queste temperature, però di fatto si prevede una giornata decisamente positive, decisamente serene e calde. Questo è tutto. Martedì veramente euforico per Piazza Affari, che ha fatto da Lepre nella corsa al rialzo delle borse europee. L'indice Fuzzemib si è portato sui nuovi massimi da inizio febbraio, chiudendo a quota 23.649 punti, ovvero il più 1,37%. Lo share è cresciuto dell'1,29%. Non sono distanti comunque dai massimi annui toccati a gennaio. Il tonfo dell'indice Zev è sceso più del previsto a meno 8,2 punti ad aprile. Non ha scomposto i mercati. Il learning season delle USA continua a convincere con anche Goldman Sachs in grado di battere le attese nel primo trimestre. In Italia le banche hanno trovato un'importante sponda nell'accordo vincolante firmato da Intesa San Paolo con Intrum per costituire una partnership strategica riguardante i crediti deteriorati. Secondo gli analisti di Bofa, l'accordo sottoscritto da Intesa è da leggere positivamente per l'intero settore. Buoni riscontri anche dall'ultimo rapporto dell'ABI con il livello delle sofferenze nette sceso ai minimi degli ultimi sei anni. Grazie a tutti! Ben ritornati, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Possiamo dire che ufficialmente oggi la provincia di Udine ha chiuso le sue regolari trasmissioni a colori, chiaramente con l'ultima seduta della sua storia il Consiglio provinciale de facto dà la parola fine a quello che è stato un ente creato nel 1806 e che praticamente esattamente da domenica, dalla mezzanotte di domenica cadrà, decadrà nella sua funzione. Poi ci sarà comunque il commissario, abbiamo già parlato nella prima parte con Alberto Comisso, arriverà il commissario che fino al 31 dicembre gestirà come si dice la fase sbrigativa per quanto riguarda i passaggi di consegne. Qualcuno dice peccato, qualcuno dice era ora, sta di fatto che insomma ne sapremo ancora di più probabilmente dopo il 29 di aprile. Le sorprese si sa in Italia sono sempre dietro l'angolo. Adesso andiamo alla Confartigianato con un servizio a cura del collega Edi Pertoldi perché? Perché la Confartigianato pone domande ai quattro candidati alla carica di governatore del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo avvicinato il Presidente regionale Graziano Tilatti. L'impresa artigiana e la piccola impresa incarnano il modello imprenditoriale del futuro. È l'assunto supportato da fatti e proiezioni dal quale Confartigianato Friuli Venezia Giulia ha preso le mosse per proporre alcune sollecitazioni ai candidati alla Presidenza e al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia poiché l'artigianato è sì un patrimonio editato dal passato ma pronto per essere investito per costruire un futuro migliore. La proposta di Confartigianato illustrata quest'oggi nel corso del convegno per tornare a crescere pone al centro il valore artigiana, quell'insieme di valori storici tutt'oggi attuali ai quali ci ispiriamo che ci consentono di rappresentare gli interessi generali del ceto medio produttivo ed intere comunità e società locali nel difficile percorso per affrontare in modo solidale le sfide della modernità. Un valore artigiano che oggi si confronta con due grandi driver di cambiamento globalizzazione dei mercati e tecnologie digitali. Due driver che non mettono fuori uso l'artigianato tradizionale ma lo abilitano ad essere protagonista del futuro. E ora andiamo ad ascoltare quello che hanno da dire gli artigiani proprio a questi candidati. Qualcosa da dire ce l'abbiamo anche perché credo che siamo stati dei protagonisti della sopravvivenza in questo periodo. La piccola impresa è stata quella che ha tenuto l'occupazione, che ha tenuto in vita il modello economico di questa regione. Per cui vorremmo non solo un riconoscimento per quello che abbiamo fatto ma vorremmo proporre agli attuali candidati, a coloro che avranno il compito poi di guidare alcune proposte che passano. Il messaggio più importante che vorremmo lanciare è il cambio diciamo culturale. Cioè le piccole imprese che diventano protagoniste insieme al pubblico diventano protagoniste in un partenariato fra pubblico e privato per la creazione di nuove occasioni di lavoro, di sviluppo e quindi di futuro per questa regione. Senta, dunque non si tratta di agire da supporto perché naturalmente le imprese artigiane hanno la necessità di essere supportate ma perché sono sicuramente una risorsa. Certamente, noi per anni abbiamo visto la piccola impresa che andava a supporto della grande impresa. Credo che questa già in questi temi, quella piccola impresa che è stata assieme in questi anni della grande impresa vuol dire che tecnologicamente era evoluta e quindi aveva tutte le capacità, know-how tecnico ma anche capacità di organizzazione. Oggi queste piccole imprese noi rivendichiamo per la piccola impresa anche per la monocellulare un ruolo attivo di partecipazione ai processi dell'economia, non più subappaltatori o subappaltatori con pari dignità in azioni di sviluppo importanti che non guardino solo l'immediato ma guarderanno il futuro. Ad esempio un tema è la rigenerazione del patrimonio ma anche la rigenerazione territoriale che vuol dire manutenzione, rigenerazione territoriale, manutenzione ordinaria, straordinaria, riqualificazione di zone artigianali e industriali pesanti che non hanno più senso di essere, vuol dire partecipazione alla posa delle reti informatiche ma in un ruolo non solo più di subappaltatore. Senta Presidente, mutuando una dichiarazione rilasciata da uno dei politici che vanno per la maggiore in questi ultimi mesi che ha affermato che gli artigiani spendono tre mesi l'anno solo per scrivere moduli, fare richieste, è sicuramente un'esagerazione. Io su questo tema non è esagerato perché oggi non è difficile il lavoro, la ricerca e l'applicazione di ciò che le imprese fanno quanto alla preparazione sotto il livello burocratico. Io gli chiediamo, credete nel lavoro, liberiamo il lavoro da pastoie sempre più complicate, consentiamo a chi produce, a chi sa organizzare il lavoro e la produzione di dedicarsi più al lavoro che alle carte perché in questo ormai i cittadini lo stanno vivendo, sembra che sia un tentativo di autoconservazione da parte della macchina burocratica. Noi vogliamo una macchina burocratica a fianco alle energie capaci di produrre e sviluppo il lavoro e quando produce il lavoro hai sviluppo risorse anche per la solidarietà. Lei prima parlava di rafforzamento della sussidiarietà, intendeva sinergie tra pubblico e privato? Certo, ormai non possiamo pensare che solo il pubblico possa garantire un minimo di sussidiarietà e di solidarietà. Quindi la partecipazione al welfare sarà anche privata ma lo sarà anche con forme più intelligenti, nuove, innovative e un ruolo importante lo giocano gli nostri enti bilaterali che sono stati capaci di accumulare e di gestire le risorse messe a disposizione. Quindi un ragionamento con le parti sociali con un discorso di solidarietà e di comune responsabilità a gestire queste risorse per creare un momento di attenzione e di tranquillità per coloro che vanno in pensione ma facendo questo senza intaccare il futuro dei nostri giovani. E domani torna, anzi già con l'anticipo di questa sera torna la Serie A, l'Udinese va in quel di Napoli alla ricerca di punti preziosi. Qualcuno dice domani faremo la stelletta, nel senso decima sconfitta consecutiva, sempre secondo i maligni. Ma sta di fatto che nell'ambiente udinese non si respira, non si respira, udinese calcio chiaramente, non si respira quell'aria, non tutto va come si dice per il verso giusto. Qualcosa bolle in pentola e allora per capirne di più, come sempre alla vigilia del match il servizio a cura di Edi Pardoldi. Conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, un massimo oddo che ha speso poche parole per quanto attiene la partita che si disputerà al San Paolo appunto domani e invece ne ha spese parecchie per quella successiva, quella interna con il Crotone. Si cercherà naturalmente di evitare di portare a Napoli i giocatori non in buone condizioni o non in perfette condizioni proprio perché si tenterà in qualche modo di avere la squadra migliore contro il team allenato da Zenga. Una partita che avrà un campionato, quella con il Crotone, quindi è chiaro ed è anche comprensibile che il tecnico si comporti in questo modo. Però è anche vero che il calcio tutto sommato riserva qualche volta anche delle sorprese e non è assolutamente scritto da nessuna parte che contro il Napoli-Udinese non riesca magari ad ottenere quei punti che non è riuscita ad ottenere con formazioni ben meno importanti, naturalmente mi riferisco quella domenica ma anche quella domenica prima, in sostanza alle nove precedenti che l'Udinese ha sistematicamente perso. Per quanto attiene invece il momento della squadra, a qualche domanda anche scomoda debba rispondere il tecnico Abruzzese. Una di queste, ma abbastanza articolata, è che l'accusa che gli viene mossa è di non essersi opposto allo smantellamento del reparto offensivo operato dalla società nel mese di gennaio e ad una dichiarazione dove si rendeva conto che la squadra non c'era con la testa ad almeno 5-6 partite e che la conseguenza è che dopo 5-6 partite la situazione è identica. Qual è il problema? Lo spogliatoio non lo segue? Non è in grado di capire quali sono le difficoltà mentali della squadra? O cos'altro? Beh, io non sono una delle tre piangioni, non sono uno che va in conferenza a piangere quello che si fa e quello che avrei voluto. Io quello che devo dire lo dico alla società, non lo dico al pubblico. E poi probabilmente pagano i miei colpi. Però mi piace tenere le cose per me, perché questa è una questione societale, non posso stare a sventolare ai 4-20 tutto quello che succede o quello che avrei voluto fare, anche perché non funziona così. Io faccio l'allenatore, l'allenatore si mette a disposizione della società e i giocatori si mettono a disposizione dell'allenatore. L'allenatore fa il massimo di quello che può fare, sbagliando o non sbagliando tutto quello che vuoi. Però ci sono allenatori che si lamentano del mercato, del giocatore che è arrivato, di quello che è partito. Io purtroppo non sono fatto così. È successo anche l'anno scorso. Però questo è il mio carattere, io non so fingere, sono fatto così, non so piangere. E quindi non piango e non piangerò mai. L'altra considerazione di testa, sì, il problema di testa va risolto e l'allenatore però va in tutti i modi a cercare di investire la rotta. È ovvio che la medicina migliore ha un risultato positivo, perché se fai un risultato positivo ci si sblocca. E quindi l'allenatore durante la settimana le prova tutte, mentalmente, psicologicamente, provando un giorno con la carota, un giorno con il bastone, un giorno con i calci nel sedere, le prova tutte. Bisogna trovare solo la giusta cosa che possa far scattare qualcosa in testa ai ragazzi. Ma la cosa migliore che può far scattare qualcosa in testa ai ragazzi è il risultato positivo. D'altronde si sa, c'è un vecchio detto friulano che dice che se la scopa non scopa bene, la colpa è del manico. È statene certi che il manico non è oddo in questo caso. Chi l'ha capita, l'ha capita. Con questo chiediamo qui, break pubblicitario e poi linea al Veneto. Noi ci rivediamo alle 21 in diretta qui da Udine con Agorà. Intervisteremo Sergio Bolzonello. Grazie a tutti. Bollicina ufficiale. Zaia con il presidente della fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton e Stefano Zanette, presidente del consorzio Prosecco d'Occa, ha svelato la bottiglia Magnum del Prosecco, che sarà lo spumante ufficiale alle gare i ridate di sci di Cortina d'Ampezzo. Siamo sotto i riflettori non durante i mondiali, ma soprattutto, prima ha precisato Zaia, e quindi pesare a tutte le infrastrutture che saranno messe in cantiere. Parlo, dice, di 140 milioni di opere viarie, di infrastrutture sciistiche, le piste e i collegamenti. Tutto questo va in una direzione della valorizzazione a 360 gradi di tutto il complesso sciistico delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO. Dagli attori ai cantanti, dai politici ai giornalisti, dagli sportivi agli stilisti, fino ai grandi imprenditori e corsa ai vigneti con un numero crescente di VIP che investe nel mondo del vino per l'opportunità di stare a contatto con la natura, ma anche esprimere creatività, confrontarsi con nuovi stimoli e garantirsi in generale una più elevata qualità della vita. È quanto, afferma l'Accordiretti, che ha organizzato oggi al Vinitaly la prima rassegna delle bottiglie VIP. Un'occasione per scoprire le scelte dei VIP che hanno deciso di investire nel vino nei diversi territori del paese, rilanciando vigneti autoctoni e produzioni locali, riscoprendo profumi e sapori, esplorando nuovi mercati e diventando loro stessi ambasciatori del Made in Italy nei calici a tavola. Andrea Contin, l'ormai ex parroco di San Lazzaro nel Padovano, ha patteggiato invece un anno, pena sospesa, e un risarcimento di 11.500 euro per lesioni personali aggravate e minacce nei confronti di una sua ex amante. Il GUP, Cristina Cavaggion, ha colto la proposta di patteggiamento avanzata dalla difesa sulla quale il pubblico ministero aveva dato parere favorevole. Il caso Contin era scoppiato nel 2016 quando una donna aveva denunciato il parroco accusandolo di averla picchiata. Lo scandalo si era poi allargato coinvolgendo diverse presunte amanti e anche un altro religioso che avrebbe partecipato ai cosiddetti festini in parrocchia. Quasi una ventina di amanti che frequentavano la parrocchia erano state interrogate dagli inquirenti durante gli accertamenti. Durati un anno, diverse di loro avevano ammesso rapporti sessuali con il parroco e con altri uomiti invitati a questi festini. Torniamo a parlare dello smog anche a seguito dell'ultimo report di Lega Ambiente che aveva tracciato nell'escorsione insomma un quadro a tinte fosche per quanto concerne il Veneto. Allora sentiamo qual è la presa di posizione proprio in relazione a questo da parte dell'assessore all'Ambiente, Gian Paolo Votacino. La criticità per quanto riguarda la situazione dell'aria in Veneto c'è, ma va anche detto che i livelli degli inquinanti negli ultimi dieci anni sono calati del 40% grazie agli interventi messi in campo. Sono le parole dell'assessore regionale all'Ambiente, Gian Paolo Votacino, che ha commentato il rapporto sull'inquinamento atmosferico in Veneto presentato da Lega Ambiente. La regione con i fondi a sua disposizione ha già investito, investe ancora. Ad esempio sono 78 i treni di nuova generazione che stanno entrando in circolazione, decine e decine, gli autobus a basso impatto ambientale. Nel 2017 mezzo milione di euro per incentivare il bike sharing, quasi un milione, assegnato con un bando per la rottamazione di vecchi autoveicoli e un altro bando sarà aperto per la rottamazione delle vecchie stuffe. ARP fa sapere ancora l'assessore regionale e con le sue attente rilevazioni ha messo in evidenza che buona parte dell'inquinamento dell'aria è provocato dal riscaldamento domestico, in particolare dalla combustione della biomassa legnosa. L'accordo per il bacino padano è un passo avanti, conclude Bottacin, con l'indicazione di misure congiunte. È peraltro necessario che i fondi statali siano aumentati e impiegati in modo selettivo per queste aree svantaggiate meteoclimaticamente e per la qualità dell'aria. Ma è necessario anche un salto di qualità culturale da parte di tutti, diffondendo le buone pratiche. E vi ora le disposizioni relative agli arresti domiciliari e viene nuovamente tratto in arresto dai carabinieri. Un 47enne originario di Mira, residente a Campo Nogara, è finito nelle scorse ore in carcere a Venezia ad eseguire il provvedimento. I carabinieri della stazione di Campo Nogara, l'uomo sottoposto all'affidamento in prova con obbligo di permanenza notturna presso il proprio domicilio dall'ottobre del 2015, causa condanna per reato di bancarotta fraudolenta, aveva più volte violato le prescrizioni imposte, come accertato dai carabinieri, i quali lo hanno reperito durante i controlli effettuati. L'uomo, qualche giorno fa, era stato inoltre denunciato per allaccio abusivo alla rete elettrica. L'export di Padova e del Veneto verso i paesi asiatici è di 1 miliardo e 166 milioni di euro. Nel 2017, più 8,8% dell'export verso questi paesi è un'accelerazione verso il Vietnam, con più 6,4% di crescita nel 2017, un trend in espansione per domanda, consumi e servizi. Il Vietnam è uno tra i più dinamici paesi asian, a metà di opportunità per le piccole e medie imprese italiane. In Europa l'Italia è il quinto partner commerciale per intrescambio complessivo e il quarto esportatore. Tra i punti di forza del Vietnam, il sistema industriale fondato sulle piccole e medie imprese, ma anche la politica attrattiva in tema di investimenti esteri, l'interesse al Made in Italy, accordi di libero scambio anche con India, Giappone, Sud Corea, Cina, Australia e Nuova Zelanda. Nel mirino delle ditte italiane in Vietnam, la vendita di macchinari e tecnologie per la trasformazione agroalimentare e lavorazione della pelle, ma anche il settore medicale, interessato da un piano mirato a raggiungere entro il 2035 e la copertura sanitaria universale. Torniamo ora in Veneto orientale, perché è stato eletto, nominato presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale, il primo cittadino di San Michele a Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Nel discorso le nomine della struttura organizzativa tra i nove sindaci fondatori della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. Presidente Pasqualino Codognotto, sindaco del Comune di San Michele, città di Bibione. Vicepresidente Roberto Adesto, sindaco del Comune di Cavallino Treporti. Vi fanno parte anche Franco Vitale, Daniele Grossato, Maura Veronese per il Comune di Porto Viro, Claudio Bellan, Mirko Mancin per il Comune di Porto Tolle, poi Comune di Caorle e la Crea di Jesolo, Comune di Chioggia. Un innovativo software sviluppato da Autovie Venete utilizzabile con Google Earth, che permette di visualizzare la mappatura delle zone adiacenti all'autostrada, ma anche i dati relativi dal monitoraggio appena effettuato e le misure adottate dalla concessionaria per ridurre il rumore. Sono più di 100 le aree limitrofe, la rete autostradale di Autovie Venete che la concessionaria ha inserito nel programma di interventi per ridurre l'inquinamento acustico e che ora sono online per tutti i cittadini. 52 i Comuni interessati e per 14 di queste le opere di contenimento sono già state realizzate, mentre per i restanti 38 gli interventi sono stati pianificati nei prossimi anni. A Porto Gruaro invece passi in avanti molto importanti nel progetto del nuovo sportello telematico dell'amministratore di sostegno, avviato il tavolo tecnico previsto dall'accordo presieduto dal Presidente del Tribunale di Pordenone, Lanfranco Tenaglia. Nel corso dell'ultimo incontro sono state formulate indicazioni per la stesura della convenzione operativa e sono stati individuati i primi step da mettere in atto per l'avvio della gestione sperimentale telematica proprio di questo sportello. Il 30 marzo scorso in municipio era stato siglato nel patto municipale l'accordo tra il Tribunale di Pordenone e il Comune, amministrato dal Sindaco Maria Teresa Senatore. Torniamo a parlare degli attacchi in Siria e che da un certo punto di vista hanno riguardato, per quanto concerne il rumore, anche il comprensorio portugualese. Rosario Padovano. Attacchi in Siria nel corso del fine settimana, grande movimento sui cieli anche nel Veneto orientale. Gli attacchi ordinati da Trump e dal nuovo Macron potrebbero durare per giorni, però attenzione, l'ONU in qualche modo è sceso in campo, c'è lo spauracchio della Terza Guerra Mondiale sempre più all'orizzonte, anche se negli ultimi due giorni non ci sono stati raid. Molte le lamentele comunque espresse via social dai portoguaresi per i violenti rumori. Un'ultima notizia da Sandona di Piave eseguita da parte di Veritas con il coordinamento della Polizia Locale, un'ordinanza del Sindaco Andrea Cereser di sgombero della discarica che si era creata attorno al condominio Kennedy di Via Calnova. Le spese di circa 500 euro sono state addebitate al condominio nell'occasione. Questa mattina sono stati controllati tutti i residenti dei 32 interni del condominio avviando procedure di cancellazione anagrafica. Liberata dai rifiuti, come vediamo dalle foto, sia l'isola ecologica di fronte al condominio come un'area elettrostante di fronte al cortile da parte dei vigili del fuoco dove iniziavano ad accumularsi dei rifiuti ingombranti. L'ordinanza, giunta al termine di una serie di avvisi, dava tempo 48 ore per sgomberare le aree in questione. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo e a seguire non perdete l'appuntamento con Agorà in diretta dai nostri studi di Udine con il collega Omar Costantini. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Mercoledì. Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature sulla pianura simili a martedì. Sui monti in leggero aumento eccetto stazionalità dei valori notturni nelle valli. Venti deboli o temporaneamente moderati, in prevalenza da nord-est. Mare calmo o poco mosso. Mare calmo o poco nuvoloso.